Baneka Manca è un giocatore con determinate caratteristiche e quindi mi dispiace ma questa è una situazione che non si può cambiare quindi sono convinto che chi lo sostituirà farà il suo dovere e con le sue caratteristiche. Rispetto a Muriel è un giocatore che è cresciuto moltissimo negli ultimi anni rispetto a quando l'allenavo alla Sampdoria, ha potenzialità infinite che non ha ancora espresso a pieno, deve sicuramente migliorare nell'area di rigore rispetto a quello che riesce anche a crearsi. C'è lo che ha pregunto ancora a me? No, Ben ha detto, no? Che le falte a venire per la Sampdoria. La Sampdoria. Quindi sicuramente lonteremo fino alla fine, fino alla morte. e una ultima...